Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La storia che sto per narrare si è svolta durante una puntata emozionante di Ece posta per te, andata in onda il 24 febbraio 2024. Questo show, magistralmente guidato da Maria De Filippi su Canale 5, ha avuto come protagoniste due sorelle, Maria Grazia e Raffaella. Queste donne coraggiose hanno aperto il loro cuore davanti alle telecamere, condividendo il profondo desiderio di riabbracciare il loro padre biologico, Renato. Un uomo che, per ragioni a loro sconosciute fino a quel momento, aveva fatto perdere le sue tracce quando erano ancora in fasce, lasciando un vuoto immenso nella loro esistenza. Il destino ha voluto che, in quel sabato di febbraio, Renato si trovasse faccia a faccia con le figlie ormai adulte. Con voce tremante, ha rivelato il malinteso che anni addietro lo aveva costretto a fuggire. Il suocero e il cognato, convinti di un suo tradimento, lo avevano minacciato, spingendolo a cercare rifugio lontano, in Svizzera, su consiglio della propria madre. In uno scambio toccante, mediato da Maria De Filippi, Renato ha confessato di aver costruito un'altra vita, ammettendo l'esistenza di altri quattro figli da relazioni successive, portando a sé il numero dei suoi eredi. Di fronte a tale verità, nonostante la comprensibile turbolenza emotiva, Maria Grazia e Raffaella hanno mostrato un'inaspettata maturità. Hanno scelto di aprire la busta contenente la lettera di Renato, stabilendo però che non ci sarebbero stati abbracci, solo una formale stretta di mano. La storia si chiude con un barlume di speranza, nonostante le puntate siano registrate, emergono voci che suggeriscono come Maria Grazia e Raffaella stiano lentamente tessendo i fili di un nuovo rapporto con Renato, introducendo nella vita dei loro figli.